capitolo terzo l'ammaestramento della verità felice colui che viene ammaestrato direttamente dalla verità così come essa è e non per mezzo di immagini o di parole umane perché la nostra intelligenza e la nostra sensibilità spesso ci ingannano e sono di curta veduta a chi giova un'ampia e sottile discussione intorno a cose oscure e nascoste all'uomo per cose per le quali anche se le avremo ignorate non saremo tenuti responsabili nel giudizio finale grande nostra stoltezza trascurando ciò che ci è utile anzi necessario ci dedichiamo a cose che attirano la nostra curiosità e possono essere causa della nostra dannazione abbiamo occhi e non vediamo che ci importa del problema dei generi e delle specie colui che ascolta la parola eterna si libera dalle molteplici nostre discussioni da quella sola parola discendono tutte le cose e tutte le cose proclamano quella sola parola essa è il principio che continua a parlare agli uomini nessuno capisce nessuno giudica rettamente senza quella parola soltanto chi sente tutte le cose come una cosa sola e le porta verso l'unità e le vede tutte nell'unità può avere tranquillità interiore e abitare in dio nella pace o dio tu sei la la verità stessa fa che io sia una cosa sola con te in un amore senza fine spesso mi stanco di leggere molte cose o di ascoltarle quello che io voglio e desidero sta tutto in te tacciano tutti i maestri tacciano tutte le creature dinanzi a te tu solo parlami quanto più uno si sarà fatto interiormente saldo e semplice tanto più agevolmente capirà molte cose e difficili perché dall'alto egli riceverà l'ume dell'intelletto uno spirito puro saldo e semplice non si perde anche se si adopera in molteplici faccende perché tutto egli fa onore di dio sforzandosi di astendersi da ogni ricerca di sé che cosa ti lega ti danneggia di più dei tuoi desideri non mortificati l'uomo retto e devoto prepara prima interiormente le opere esterne che deve compiere così non saranno queste ad indurlo a desideri volti al male ma sarà lui invece che piegherà le sue opere alla scelta fatta dalla retta ragione nessuno sostiene una lotta più dura di colui che cerca di vincere se stesso questo appunto dovrebbe essere il nostro impegno vincere noi stessi farci ogni giorno superiori a noi stessi e avanzare un poco nel bene in questa vita ogni nostra opera per quanto buona è commista a qualche imperfezione ogni nostro ragionamento per quanto profondo presenta qualche oscurità perciò la constatazione della tua bassezza costituisce una strada che conduce a dio più sicuramente che una dotta ricerca filosofica non già che sia una colpa allo studio e meno ancora la semplice conoscenza delle cose la quale in se stessa un bene ed è voluta da dio ma è sempre cosa migliore una buona conoscenza di sé e una vita virtuosa infatti molti vanno spesso fuori dalla buona strada e non danno frutto alcuno o scarso frutto di bene proprio perché si preoccupano più della loro scienza che della santità della loro vita che se la gente mettesse tanta attenzione nell'estirpare i vizi e nel cortivare le virtù quanta ne mette nel sollevare sottili questioni filosofiche non ci sarebbero tanti mali e tanti scandali tra la gente e nei cenobi non ci sarebbe tanta dissipazione per certo quando sarà giunto il giorno del giudizio non ci verrà chiesto che cosa abbiamo studiato ma piuttosto che cosa abbiamo fatto né ci verrà chiesto se abbiamo saputo parlare bene ma piuttosto se abbiamo saputo vivere devotamente dimmi dove si trovano ora tutti quei capiscuola e quei maestri a te ben noti mentre erano in vita che brillavano per i loro studi le brillanti loro opposizioni sono ora tenute da altri e non è detto che questi neppure si ricordino di loro quando erano vivi sembravano essere un granché ma ora di essi non si fa parola o quanto rapidamente passa la gloria di questo mondo e voglia il cielo che la loro vita sia stata all'altezza del loro sapere in questo caso non avrebbero studiato e insegnato in vano quanti uomini si preoccupano ben poco di servire dio e si perdono a causa di un vano sapere ricercato nel mondo essi scelgono per sé la via della grandezza piuttosto di quella dell'umiltà perciò si disperde la loro mente grande in verità colui che ha un grande amore colui che si ritiene piccolo e non tiene in alcun conto anche gli onori più alti prudente in verità colui che considera sterco ogni cosa terrena al fine di guadagnarsi cristo dotto nel giusto senso della parola è in verità colui che fa la volontà di dio buttando in un canto la propria volontà grazie 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 grazie